Spesso le persone silenziose sono quelle che avrebbero più cose da dire e non stanno in silenzio per paura di parlare, ma perché parlano soltanto a chi è in grado di capire. Per questo sono così preziose le persone che sanno leggerti dentro, perché non perdono tempo a farti mille domande o a darti mille risposte, ma ti abbracciano e basta, perché esistono momenti in cui le parole non servono, ma in quell'istante il silenzio inizia a raccontare, avvolgendoti in un abbraccio, uno di quelli che ti lascia il suo profumo addosso e di certi momenti ricordi anche il profumo. Sì, esistono molti modi di voler bene a una persona, ma il più bello sarà sempre dimostrandoglielo. A volte un grammo di comportamento vale un chilo di parole e a me piacciono le persone vere, quelle che dimostrano, quelle che non si nascondono dietro a fiumi di promesse, perché a me le promesse non importa che vengano fatte, basta che vengano mantenute. Mi piacciono quelle persone che brillano di luce propria, come le comete. Come da? Mi piacciono le persone che diventano un E per unire e non vivono Dio per dividere. Mi piacciono le persone che anche quando non mi capiscono, mi abbracciano, perché il calore di un abbraccio vale più di mille parole. Grazie a tutti.